Tredicesima festa regionale dell'Associazione Nazionale dei Pensionati Cia Puglia presso l'agriturismo Masseria Colle Carro ad Altamura dove sono arrivati già da tutta la regione gli anziani agricoltori associati a NP. Contrastare il crescente disagio degli anziani, cambiare verso le pensioni basse è tema ineludibile. L'argomento al centro del dibattito coordinato dal vicepresidente regionale Cia Puglia Giannicola D'Amico. Tradizionalmente la nostra festa regionale dei pensionati ha sempre tracciato il quadro della situazione in materia di sanità verso gli anziani, in materia di pensioni. L'incontro che abbiamo organizzato verteva a incontrare i parlamentari pugliesi di tutti gli schieramenti. Registriamo con rammarico la totale assenza di tutti i parlamentari pugliesi verso un tema così importante come quello delle pensioni più dignitose. Il 43% dei pensionati agricoli pugliesi percepiscono meno di 500 euro, il 44% vive in situazioni di segno di povertà e il 10% non riesce a acquistare il proprio pranzo quotidiano. Una situazione davvero sconvolgente sulla quale come Cia, come ANP, come INAC, il nostro patronato a livello nazionale stiamo conducendo una grande battaglia per ridare dignità ai nostri pensionati agricoltori che anche avendo superato gli 80 anni continuano a presidiare le campagne, continuano a lavorare, continuano a stare sul territorio e la presenza sul territorio significa anche tutela, tutela del territorio, tutela delle aziende, tutela del paesaggio e anche da fenomeni di natura idrogeologica perché la manutenzione del territorio serve anche a questo. Un confronto aperto sull'aumento delle pensioni, minime possibilità reale secondo il presidente nazionale patronato INAC, Cia, Antonio Barile. Noi riteniamo che ci sono spazi per aumentare le pensioni basse e per migliorare tanto le future pensioni degli agricoltori perché con il sistema contributivo nei prossimi anni avremo pensioni molto al di sotto di quelle attuali, cioè avremo pensioni anche di 270 Euro, sperando che in qualche modo trovino una soluzione nella cosiddetta pensione di cittadinanza, ma ancora non abbiamo capito come funzionerà e di conseguenza noi siamo qui impegnati a che il governo e il Parlamento ci diano risposte a domande che noi abbiamo posto già qualche anno fa.